In apertura la notizia della forte scossa di terremoto che ha coinvolto la zona dell'Aquila. Via a Barsini, 19 l'Aquila. Abbiamo una fuga di gas e non abbiamo più le sale, quindi siamo sospese in aria e non possiamo uscire in nessun modo. C'è crollata la gas. Pronto, chiamatevi, vieni per favore, non mi ricordo il numero. E noi siamo in grappola. Si parla di morti, si parla di feriti. Dio mio, ma cosa è sparito? Lo so bene. Claudia Garossi, Maria Levis, ma non stava a casa. Campering a lot of these rescue efforts are the very strong. Purtroppo notizie di crolli, soprattutto la zona centrale, immagini raccapriccianti. Mi sono salvato per poco. Dio a Biagio che viene. È confermato Spoletini il crollo di questa parte della casa dello studente. Ritorniamo all'Aquila. Ritorniamo all'Aquila dieci anni dopo quella scossa che alle 3.32 del 6 aprile provocò la morte di 309 persone. Ne ferì 1.600. In un colpo solo provocò 80.000 sfollati e 10 miliardi di danni. Ritorniamo all'Aquila questa sera con Titti Postiglione, allora direttore della sala operativa della protezione civile. Benvenuta. Grazie. E con Monsignor Giuseppe Molinari, arcivesco emerito dell'Aquila. Benvenuto anche a lei. E ritorniamo adesso subito fisicamente all'Aquila, al centro dell'Aquila, in Piazza Duomo con Clara Iatosti. Clara. Buonasera Donatello, buonasera ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo in Piazza Duomo e io sono proprio con la persona che all'epoca era il primo cittadino dell'Aquila. A dieci anni di distanza, Massimo Cialente, qual è il suo primo ricordo, il suo primo pensiero? Il primo pensiero chiaramente va a quella notte, quando sono stato svegliato come tutti dal terremoto. Va all'immagine che non scorderò mai del centro della città volto in un fungo atomico arancione, perché era tutta la polvere del crollo. Poi chiaramente mettere in sicurezza la famiglia, in salvo la famiglia e poi è iniziato quello che ho condiviso con tutti gli altri Aquilani. Penso di poter dire un vero e proprio calvario, soprattutto nella fase iniziale, cadenzata nei primi giorni dall'arrivo delle notizie delle vittime, molte le quali erano molto conosciute, eravamo amici. Lei pensi che alcuni parenti, ma soprattutto io sono cresciuto in un condominio e la mia dirimpettaia in 40 anni, quando le famiglie vivono insieme in 40 anni tutte le fasi belle e brutte della vita, per me era veramente una sorella maggiore, Silvana, e apprendere che era scomparsa. Però posso dire una cosa, in quei giorni il dolore era diverso, cioè sembrava quasi che in questa situazione, forse perché io non avevo neanche la possibilità di sentire il dolore, l'ho anche vissuto per un periodo quasi come un senso di colpa. E quel dolore poi è tornato successivamente perché gran parte le vittime, poi quel giorno terribile, funerario, la cosa terribile fu, guardi, io rimassi quando ci fu questa teoria dei carri funebri che andavano via, era un serpentone nero, e li portammo in un oculario nuovo che era stato da poco terminato, e a volte sono andato, ed è una cosa terribile, perché tu vedi tutte le diverse date di nascita, molto giovani, e un'unica data di morte, è una cosa terribile, poi vedi su queste tombe, soprattutto quelle dei giovani, gli amici, i genitori che hanno lasciato, che hanno lasciato gli oggetti, è una cosa, è una cosa terribile. Signor Sindaco, una delle cose che effettivamente ci colpiva dieci anni fa, quando siamo arrivati qui per raccontare questa tragedia, era che tante volte si diceva, si parla di terremoto dell'Aquila, ma questo è il terremoto anche di tanti piccoli comuni, di tante frazioni, perché l'Aquila si diceva, non è solo Piazza del Duomo. E allora noi vogliamo tornare, anche insieme a lei, a Donna, proprio una delle frazioni più colpite, e il nostro Massimiliano Cochi ha incontrato Giustino Parisse, un collega del centro, che quella terribile notte perse suo figlio Domenico, di 18 anni, sua figlia Maria Paola, di 16, e suo padre, di 75. E allora, ascoltiamolo. Lì dove c'è quella caccia, che spunta, quella più alta, ecco, quella caccia è spuntata dopo il terremoto, sul pavimento della mia cucina, cioè lì c'era la mia cucina, ecco, questa è casa mia, dove sono morti i miei figli, dove è morto mio padre, dove mia madre è rimasta sotto le macerie per quattro ore, e dove io e mia moglie ci siamo salvati, non so come, ancora oggi non me lo spiego, ecco, questa è casa mia. Qual è la prima immagine che ti viene di quella notte? La prima è quando parte questa scossa, chiaramente ti rendi conto subito di quello che sta avvenendo, che non è la classica scossa che avevamo sentito in precedenza. Ho detto a mia moglie di andare alla cameretta di Maria Paola, e io sono andato alla cameretta di mio figlio, l'immagine aperta la porta, e di un mucchio di legno, cemento, indistinto. E poi sentì la voce di mio figlio che mi chiamava, io che salì sulle macerie per dirgli arrivo, arrivo, adesso ti prendo, eccetera, poi è salito sopra, lui non disse più niente, e mi resi conto che non potevo fare assolutamente nulla, perché c'era il cordolo di cemento, che io avevo ricostruito, con la certezza che quello era un sistema antisismico, invece quel cordolo di cemento, che stava sulle macerie, e lì nemmeno se avessi avuto i Vigili del Fuoco, 20 secondi dopo, probabilmente si avrei riuscito a tirarlo su, per salvare i miei figli. io ho sempre detto, il primo colpevo della morte di miei figli sono io, punto. però c'è un dato di fatto, che tutti i messaggi che arrivavano, e noi, io, ne ero diretto testimone, perché facevo il capo servizio della relazione dell'Aguila, insieme ai miei colleghi, tutti i messaggi che ci arrivavano, erano messaggi di dire, state calmi, state tranquilli. al di là di questo mi porto il peso e me lo porterò fino alla tomba, probabilmente di una responsabilità che essendo forte, per non aver saputo capire e proteggere la vita dei miei figli. Io non vado quasi mai al cimitero a trovare i miei figli, ci vado rarissimamente, e quando ci vado non prego, non faccio nulla, sto a pochissimi secondi, chiedo solo scusa a loro ogni volta, e non so se mi perdoneranno, però lo faccio. Molto intensa questa testimonianza di Giustino Parisse, raccolta dal nostro Massimiliano Cocchini, sentiremo poi altri due frammenti. Abbiamo scelto di affidarci un po' a Giustino Parisse come guida in questa tragedia, anche perché lui vi ricopre suo malgrado un doppio ruolo di vittima e di cronista, come lui stesso ci ricordava. Titti Postiglione, lei invece ricopriva un ruolo operativo di primissimo piano nella protezione civile, e quando è arrivata all'Aquila? Cosa ha pensato? Cosa ha trovato? Come ha fatto a dispiegare la professionalità necessaria, tenendo a bada un impatto emotivo, immagino fortissimo? Io sono arrivata all'Aquila nella tarda mattinata del giorno del 6 di aprile. Ero a Roma quando ho sentito la scossa. Chiaramente il primo pensiero, non era la prima volta che mi capitava di sentire scosse a Roma, è augurarsi che quella scossa venga da un territorio il più possibile vicino a quello dove sei, perché vuol dire che allora tutto sommato è una scossa di magnitudo meno importante. E dopo pochi minuti ero chiaramente già in contatto con la sala operativa, con il mio capo ufficio emergenze, che allora era Fabrizio Curcio, e immediatamente capimmo che era l'Aquila, capimmo che era un terremoto importante, poi la magnitudo fu definita un po' più avanti, e in pochi minuti eravamo tutti nel nostro centro di coordinamento nazionale, perché è da lì che durante le grandi emergenze si parte con il coordinamento degli interventi. Chiaramente un coordinamento degli interventi che serve a definire una strategia generale di fronte a una catastrofe come quella, mentre sai che sul territorio tutto ciò che è soccorso si muove, parte e interviene per fare appunto salvataggio di chi è sotto le macerie, soccorso dei feriti e quant'altro. Quindi la macchina si muove sul territorio e a Roma intanto si coordina. Arrivata all'Aquila invece cosa ha pensato il primo impatto? Lei mi ha detto un attimo fa come ha fatto, come si fa a conciliare il bisogno di professionalità, di fare al meglio quello per cui si è stati formati, si lavora e controllare continuamente, in maniera importante, la propria emotività, la propria umanità. La cosa più sbagliata da fare è pensare di cancellare la seconda parte. Ecco, io credo che chi si occupa di materie così complesse come per esempio la gestione delle emergenze, non debba mai perdere di vista in nessun momento che c'è. Sicuramente tecnica, c'è procedura, c'è metodo, c'è mettere a frutto tutto quello per cui hai lavorato, ma ci sono persone, ci sono storie. Più passa il tempo, più i numeri diventano facce, volti, storie, tutte diverse, con bisogni diversi ed esigenze diverse. Arrivata all'Aquila la sensazione fu di una grande tragedia. Non si dà molinare, abbiamo sentito i rimpianti di Giustino che non si dà pace, ovviamente non ha colpa per quello che è successo. Immagino sia la stessa situazione che tanti aquilani abbiano vissuto e tuttora vivono, perché possiamo dire che lo sciame sismico non si è mai interrotto nei cuori degli aquilani. Sì, è una ferita che rimane sempre aperta, anche vedendo le immagini di prima, riviva subito quella tragedia. È una ferita che rimane sempre aperta. Io vorrei salutare tutti i nostri telespettatori e telespettatrici, soprattutto gli aquilani e le aquilane. Questa sera, domani, ricorderemo questo evento così tragico di dieci anni fa. Il mio pensiero va subito alle vittime, 309 vittime. A tutti i giornalisti che mi incontravo quei giorni, io dicevo sempre che la più grande tragedia è che queste persone cariche non le abbiamo più accanto a noi. Poi le case, le chiese, tutto si ricostruirà. Anzi, io dicevo all'inizio, prima le case, le fabbriche, poi le chiese. E quella è la tragedia di questi fratelli e sorelle che non ci sono più. Io mi trovavo nel mio appartamento, nel vescovato. Dopo la seconda scossa sono andato a riposare, vestito. E poi però c'avevo un dolore intercostale che mi dava fastidio. Sono sceso giù dove c'era la sala da pranzo per passare un po' di tempo. E lì ho sentito alle 3.32 la terribile scossa, quel rumore mostruoso. Poi sono sceso giù, come c'erano le suori che mi aiutavano. Abbiamo cercato di raggiungere subito Piazza Duomo e lì abbiamo incontrato l'altra gente. Titti, ogni emergenza ha delle sue peculiarità. Quali erano le peculiarità dell'emergenza all'Aquila? L'evento aquilano è straordinario per una caratteristica principale. Ha colpito, un capoluogo di provincia, un capoluogo di regione, lo ha colpito nella sua interezza. Tutti noi abbiamo tra le tante immagini drammatiche che ci portiamo nei cuori la fotografia di quella prefettura venuta completamente giù per la scossa di terremoto a rappresentare come il centro del governo, dello Stato, del territorio fosse in qualche modo praticamente azzerato. Credo che al di là del numero grandioso, straordinario di vittime che poi ci siamo ritrovati nel terremoto del centro Italia la peculiarità dell'Aquila sia quella lì. Cioè che sia stata colpita al cuore il capoluogo di una regione e quindi inevitabilmente la regione tutta. Tutte le conseguenze che ne derivano. Adesso vi faccio ascoltare un altro frammento dell'intervista raccolta da Massimiliano Cocchia Giustino Parisse perché ci consentirà di fare un passo avanti nella nostra conversazione. Sentiamo. Continuando a fare il tuo lavoro da cronista hai scoperto che c'erano palazzi costruiti con materiali scadenti, c'erano pilastri che mancavano, c'era addirittura chi rideva la notte del terremoto pensando agli appalti della ricostruzione. Queste sono le cose che poi ti fanno più male. Allora la città era una città fragilissima. Tra l'altro c'erano già degli studi fatti sia a fine degli anni 90 e sia all'inizio degli anni 2000 che mettevano nero su bianco questa cosa. Cioè che il palazzo della prefettura fosse fragile lo si sapeva, che la casa dello studente fosse fragile lo si sapeva. Era una città fragile della quale nessuno, di questa fragilità nessuno sarebbe occupato. Questa era la città che si presentava la mattina del 6 aprile. Una città con mille problemi, i problemi di lavoro. Questa è una città che negli ultimi anni aveva perso migliaia e migliaia di posti di lavoro con la fine del cosiddetto polo elettronico. Adesso sento un sacco di retorica sul centro storico bello, l'Aquila a bella mece. C'è una storia dell'Aquila, prima del terremoto era nell'abbandono, nel degrado, invaso da macchine da tutte le parti, con palazzi cadenti. Una delle cose che un po' contesto ha anche i miei concittadini è che noi non abbiamo fatto un atto vero, serio, di scusa nei confronti di quelle 55 morti, le morti, gli studenti, gli studenti fuori sedi. Quella è una cosa che questa città credo che si porti veramente sulla coscienza. Nessuno ha avuto il coraggio di dire pubblicamente, guardate, è vero, vi abbiamo ammazzato noi, ma non ammazzati nel senso doloso del termine, forse nemmeno dal punto di vista colposo, ma perché questi ragazzi vivevano in case fatiscenti, spesso affittati da proprietari che vivevano in case invece meno fatiscenti. Giustino Parisse fa riferimento alla natura di città prevalentemente studentesca, città universitaria dell'Aquila. Tornando all'Aquila da Clara Iatosti, vorrei chiedere a lei, al sindaco Cialente, se in questi dieci anni l'Aquila ha perso un po' questo suo volto, ci sono 5.000 studenti in meno circa, e soprattutto come in questi dieci anni sono cambiati e come è cambiata la vita degli Aquilani. Sì, anzitutto vorrei salutare il nostro Arcivisco come merito e con tantissimo affetto, Titti Postiglione, che rivedo sempre con immenso piacere. Sì, chiaramente la vita è cambiata per noi Aquilani. Io credo che nessuno di noi sia uscito indenne da questa tempesta. Siamo tutti diversi. Gli Aquilani hanno fatto, guardate, uno sforzo enorme, perché sarebbe stato facile lasciare la città. Nel 1703, quando ci fu l'altro terremoto, il Marchese Garofalo, inviato dal vicere di Napoli, chiusse le porte della città con delle palizzate. Io chiaramente non potevo mettere i posti di blocco. Gli Aquilani invece hanno accettato un'idea che realizzammo, grazie anche all'intesa con il governo e con la stessa protezione civile, è una città virtuale. Noi abbiamo vissuto una città in cui gli uffici erano nei posti più incredibili, una città nella quale la vita si svolgeva in modo strano. Nel progetto CASA vi erano i nucchi complessi, come ricorderà Titti. Cioè, non è stato facile. Stiamo tornando adesso lentamente alla normalità. Abbiamo un solo problema, che è la riabilitazione del centro storico, che non riesce a partire compiutamente perché abbiamo un problema che si chiama Italia e non si chiama terremoto dell'Aquila, che è la ricostruzione pubblica. Cioè, non è pensabile in questo Paese di fare un bando pubblico per costruire qualcosa. È un problema del quale si sta occupando in questi giorni anche il governo. Noi siamo incappati in questo e, come diceva Titti, una città capoluogo di regione e di provincia, ha il centro storico, che era anche il centro storico di riferimento all'intero comprensorio, nel momento in cui non ha il direzionale, quindi non ha il commercio, e quindi non rientrano gli abitanti, non riesce a ripartire. Se voi vedete qui, lei sarà andata un po' in giro, i palazzi che abbiamo ristrutturato del centro storico sono meravigliosi. Se avete la fortuna di entrare dentro, hanno restituito delle bellezze incredibili. Però sono vuoti perché? Perché in questo momento non c'è la vita, perché manca quel meccanismo che ricrea il centro storico. E quindi, passi fra questi palazzi bellissimi, ogni tanto hai questo vuoto di un edificio ancora transennato, puntellato, del quale poi, tra l'altro, io devo dire che non so quando riusciremo a vedere almeno la partenza. Voglio dire una cosa, io ho lasciato di fare il sindaco, dopo otto anni, non ho avuto la soddisfazione intima, che credo in parte mi meritassi, di partecipare non all'inaugurazione e all'apertura di una scuola, ma alla posa della prima pietra dei lavori di una scuola. Eppure ci abbiamo messo tutti, non dipende né dal Comune, perché sono le difficoltà che ha la sovrintendenza. E c'è una ferita, ad esempio, il nostro Duomo qui dietro, che per meccanismi burocratici ancora non parte. Quindi rifare ricostruzione pubblica in Italia è impossibile. E proprio il nostro Vito De Torre è riuscito ad entrare all'interno del Duomo ed è davvero un colpo al cuore vedere, è tutto a cielo aperto. È veramente una vergogna. Ripassiamo la linea a voi. Colgo volentieri il tuo assist, Clara, per commentare con Monsignor Molinari proprio le immagini del Duomo a poca distanza da dove vi trovate. Ecco, appunto, come diceva il sindaco, con il centro, il centro che ancora soffre. Questo è come appare adesso il Duomo dell'Aquila. Alcuni edifici di culto stanno meglio, però questa è la situazione del Duomo. Dopo il sisma io ho fatto un giro di tutte le parrocchie, una visita pastorale, per rendermi conto della situazione. Ho lasciato anche tutta la documentazione. Ma in questo giro, questa visita pastorale, la cosa che più mi ha colpito, che la gente che aveva tanti problemi, la casa distrutta, il lavoro perduto, familiari uccise dal terremoto, queste persone mi chiedevano la nostra chiesa, fai qualche cosa per la nostra chiesa. Prima di entrare nello studio parlavamo con Titti e dicevamo che le scuole, le chiese, sono luoghi di aggregazione che servono a ritessere le comunità, a riunirle, a ricucirle. Ecco, purtroppo, sì, le lentezze burocratiche, tanti altri problemi, però a me viene sempre in mente un proverbio che tutti conoscono. Potete recidere tutti i fiori, ma non potete impedire il ritorno della primavera. Io credo che questa primavera tornerà per l'Aquila, per le case, per le chiese, per il futuro dei giovani, delle famiglie e sarà un futuro pieno di solidarietà, di speranza e di bellezza. Titti Postiglione, ci sono sempre due binari che scorrono paralleli in questi casi, quello dell'emergenza e quello della ricostruzione. Abbiamo sentito affiorava anche dal discorso del sindaco questo elemento. Piani che poi a un certo punto si confondono, non si capisce bene dove inizi uno, dove finisca uno e dove cominci l'altro e questo dà luogo a polemiche, risentimenti, incomprensioni. C'è qualcosa che l'ha amariggiata nella gestione dell'emergenza dell'Aquila? Qualcosa che vorrebbe sottolineare? Allora, innanzitutto condivido assolutamente quello che diceva il sindaco Cialente, che saluto con lo stesso affetto che mi ha, come al solito, dichiarato. E cioè, il tema non è il problema della ricostruzione dell'Aquila, ma nel nostro paese c'è un problema di ricostruzione in generale. Solo per dare qualche dato, anche i grandi terremoti citati del passato come terremoti virtuosi, parlano di tempi lunghi. Il piccolo Duomo di Venzone, rispetto a una città di monumenti come l'Aquila, ci sono voluti vent'anni per ricostruirlo. Il piccolo terremoto del Friuli, del 76. Il piccolo centro storico di Don Cera Umbra di anni ce ne ha messi 18 per tornare ad essere inaugurato. Quindi, che siano tempi lunghi, ahimè, è qualcosa con la quale oggi, purtroppo, siamo costretti a convivere. Che sia bene, è chiaro che la risposta è no. Tanto più laddove, invece, la ricostruzione privata, in qualche modo, va avanti e il tema è un tema della ricostruzione pubblica. Emergenza-ricostruzione, ha assolutamente ragione. Spesso questi due piani vengono confusi. Sono due fasi diverse. La fase dell'emergenza in Abruzzo è stata molto lunga. Abbiamo lavorato fianco a fianco con le autorità locali, territoriali, per dieci mesi. Poi abbiamo passato le consegne e cominciata la fase di rimozione degli ostacoli per la ricostruzione. È giusto che quei processi siano processi del territorio, ma è giusto che chiaramente siano sostenuti da un paese che riconosce una straordinarietà. Mi consenta un'ultima cosa in riferimento a questo racconto che sta facendo Giustino Parisse e non lo ringrazieremo mai abbastanza per l'onestà intellettuale con cui affronta dopo dieci anni un tema così delicato. Giustino ha evidenziato due punti che mi sento di condividere e di evidenziare con voi stasera. Lui dice che mi sento in qualche modo colpevole, che a sentirlo ci si strappa il cuore. In realtà lui vuole dire una cosa molto profonda, vuol dire prevenzione, vuol dire quanto ordinariamente ci dobbiamo porre il problema di quello che potrebbe accadere, non solo dopo che è accaduto. E ne dice un'altra di cosa, cioè quanto questo territorio nostro, italiano, bellissimo, è vulnerabile, che si ricongiunge al tema della prevenzione. Riprenderemo magari questo discorso dopo una piccola pausa pubblicitaria. Non andate via, torniamo subito. Eccoci qui di nuovo insieme, di nuovo con la testa e con il cuore all'Aquila. Adesso vogliamo provare a ragionare un po' sul futuro che attende questa città e i suoi abitanti, i quali ogni volta che si parla di futuro lo associano però sempre alla memoria, che sentono come un dovere incombente su di loro. Lo fa anche Giustino Paris nell'ultimo frammento di intervista che vi vogliamo proporre. Ascoltiamolo e poi riprendiamo la nostra discussione. Oggi siamo a questa ricostruzione lunga, complessa, difficile, dove anche le persone in qualche modo si sono incattivite. Ecco, ne parlavamo prima. Perché quando le cose vanno lentamente, quando vedi che non funziona, e poi gli interessi sono mille, cioè non c'è un solo interesse, cioè l'interesse unico quale che dovrebbe essere ricostruire casa e tornarci. Invece poi gli interessi sono altri, sono interessi speculativi, sono interessi di chi pensa che con i soldi dello Stato al posto di mezzo bagno che c'era prima ce ne devi fare 4. E' tutto un sistema che ha portato a questi ritardi e che non ha un colpevole. Cioè, sarebbe facile dire la colpa è dell'ex sindaco dell'Aquila. Vabbè, sì, l'ho detto, finisce lì. No, non è così. E' un ingranaggio che in continuazione si blocca. Ora, la realtà è semplice che in città dopo dieci anni non c'è un luogo che ricordi quello che è accaduto. Quando vedi che poi il dibattito su un parco della memoria diventa il dibattito su un'area di sosta, forse è meglio facci un parcheggio che il parcheggio. Allora dico, vabbè, basta. Cioè, lasciamo perdere. Facciamoci facciamoci quello che volete. Però basta. Cioè, non usiamo più non mettiamo in contrapposizione il ricordo di chi di chi quella notte se n'è andato con delle banalità quotidiane. Clara, il futuro come appare da lì, da Piazza Duomo? Eh sì, signor sindaco, io ancora la chiamo signor sindaco, ormai lei è il sindaco per antonomasia. Lei nel suo libro parla di lezione mancata. Allora, il futuro, come lo vogliamo vedere per l'Aquila? Ma il futuro dell'Aquila credo che si stia costruendo. Io credo che quello che diceva Giustino parisse sia una parte dell'animo degli Aquilani c'è anche comunque una voglia di ripartire. Ci sono i giovani bravi che stanno seguendo il destino del resto d'Italia. Vole a dire qui studiano molto. Io ricordo che l'Aquila è la provincia con il più alto numero di laureati in Italia. Quindi hanno poi il destino che stanno conoscendo tutti i giovani italiani quello di andare a trovare all'estero quel lavoro anche di qualità pari alle loro attese e ai loro sacrifici di studio. Però io sono convinto che l'Aquila si rialzerà. Già nelle periferie la vita è tornata. È tornata già da anni. Nel 2015 a maggio erano rientrate 43 persone demolendo e ricostruendo le casse. Io però vorrei approfittare se ho pochissimi secondi raccogliendo anche quello che diceva Titti Postiglione e i drammi che abbiamo conosciuto non che l'Aquila fosse una città particolarmente fragile gran parte degli studenti sono morti insieme a tantissimi anquilani in palazzi in centro armato nella zona residenziale della città la zona della villa di Campo di Fossa e così via. È arrivato il momento che mettiamo in sicurezza questo paese l'Italia è un paese meraviglioso di grandissime potenzialità ha un solo problema quello del rischio sismico che viene dalla natura è quello del rischio geologico che ci siamo cercati noi negli ultimi decenni ebbene dobbiamo mettere in sicurezza il paese perché la tragedia che abbiamo conosciuto noi che si è ripetuta nel centro Italia e che prima si era ripetuta anche altrove sono tragedie legate a un evento naturale periodico e lo sa il paese quindi mettiamo in sicurezza poi quello che serve è una legge quadro che dica chiaramente cos'è l'emergenza una legge quadro che ci dica quando è che si entra nel post emergenza per la ricostruzione degli alloggi temporanei le scuole temporane le chiese temporane come abbiamo fatto all'Aquila la città virtuale della quale io le parlavo è un'unica legge che consideri le varie tipologie locali per la ricostruzione guardi noi siamo arrivati all'assurdo che nell'alta valle dell'Aterno colpita dal terremoto del 2009 ricolpita dal terremoto del 2016 del 2017 uno dei problemi dei sindaci e degli uffici della ricostruzione è stato e ora quale legge applichiamo quella del 2009 o quella del 2016 allora si doveva andare a vedere qual fosse stato il danno preponderante causato dall'uno o dall'altro sisma non è possibile andare avanti così noi siamo un paese che ha grandissime capacità non lo facciamo l'ha cominciato a fare adesso anche la Turchia che mette in sicurezza Istanbul che è una delle più grandi metropoli del mondo probabilmente e non lo facciamo sa perché io questo lo scrivo anche da ex deputato lo dico vede queste imprese con una messa in sicurezza del paese è un qualcosa che è un progetto pluridecennale che non può vedere i partiti gli uomini politici contrapposti ci vorrebbe un momento in cui ci si leva la divisa la cosa la maglietta della squadra di calcio e si fa come quando vanno via le partite va via un grande campione e si mischiano tutti e si pensa a questo grande progetto che sarebbe tra l'altro io credo un altro modello di sviluppo per i prossimi 30 anni non dobbiamo quindi morire di burocrazia in quest'Italia siamo così bravi nell'emergenza dobbiamo diventare altrettanto bravi nella prevenzione e nella ricostruzione grazie grazie a Massimo Cialente per essere stato con noi la linea ritorna a voi grazie naturalmente a Clara Iatosti e all'ex sindaco Cialente Titti Postiglioni riprendiamo questo filo questa palla che ci passa il sindaco vorrei chiederle questo cosa si porta dietro professionalmente da questa esperienza tante idee tanti progetti ne cito uno quello che lei ha messo in campo di gemellare i comuni italiani tra di loro in maniera tale che quando uno viene colpito da un'emergenza come l'Aquila che lo paralizza la vita amministrativa può continuare in un altro cosa si porta professionalmente ma anche se crede opportuno dircelo umanamente ogni emergenza è più che un modello è un laboratorio è un laboratorio in cui in qualche modo porti le buone pratiche che hai appreso negli eventi precedenti che hai messo a frutto che hai costruito in procedura in protocolli operativi ma è anche una occasione ahimè basata su una tragedia su qualcosa che devi gestire di complesso per sperimentare cose nuove e quello che va fatto dopo è rimettere di nuovo al sistema quello che hai imparato da questo terremoto abbiamo imparato tantissimo abbiamo portato tantissimo che avevamo messo a frutto prima penso a i campi di tende 178 campi gestiti da grandi organizzazioni di volontariato da tutte le regioni italiane da grandi città metropolitane ecco questo modello delle colonne mobili è ormai una realtà consolidata nel paese che esportiamo anche nel mondo penso all'assistenza psicologica fatta in un modo diverso in un modo nuovo penso al modello delle scuole di cui si è parlato che non è soltanto un luogo fisico dove tenere i bambini ma è insegnanti formati per essere capaci di accompagnare i bambini traumatizzati in un terremoto ecco tutto questo lo avevamo nel nostro DNA lo abbiamo portato all'Aquila ce lo siamo riportati poi negli altri terremoti da quell'emergenza lì ne sono venute ancora tante altre di idee lei citava i gemellaggi una città ma non grande come l'Aquila ma anche un piccolo comune costretta ad occuparsi dell'emergenza perde la capacità di gestire l'ordinario ecco allora perché non gemellarsi nel terremoto del centro Italia abbiamo cominciato a fare questi primi esperimenti e hanno funzionato molto bene bisogna lavorarci in tempo di pace bisogna trovare il tempo di sedersi e ragionare sulle cose Monsignor Molinari ci aiuti adesso a tornare sull'argomento difficile che lambiva Giustino Parisse nel suo ultimo intervento il dolore il dolore della città con cui lei si è confrontato e io immagino se posso permettermi la fatica di trovare le parole durante l'omelia davanti a quelle 309 bare affiancate è un dolore che in tutti io pochi minuti prima di entrare in studio ho incontrato un'aquilana quel dolore che si legge negli occhi nel buio nella polve dei cantieri come si intravede qualche luce come evitare che questo dolore si trasformi in rabbia in incattivimento la risposta non è facile ma cercherò di dare quello che so rispondere io però prima vorrei dire una cosa ci sono state fatte tante narrazioni della tragedia dell'aquila alcune io non le accetto perché tutto è negativo tutto è negativo c'è qualche film che gira che critica molto anche la protezione civile io non faccio nomi però tutti lo sanno è un film che non riporta la realtà io nella tragedia e immagino la tragedia grande di questo giornalista che conosco bene nella tragedia che tutti gli aquilani hanno vissuto però abbiamo sperimentato una solidarietà una vicinanza un'accoglienza la chiesa le diocesi i volontari lo stato i vigili del fuoco i carabinieri l'esercito la protezione civile è stato un momento di solidarietà fantastico è bello questo vorrei sottolinearlo e dire ancora un grazie a tutti poi certo il dolore e qui vorrei rifarmi a un ricordo il terremoto del Friuli il 6 maggio del 2009 un mese dopo l'issisma dell'Aquila mi scrisse e l'ex ercivescovo di Udine Monsignor Alfredo Battisti che era stato testimone del terremoto del Friuli e mi disse noi friulani scavando e piangendo tra le macerie abbiamo riscoperto tanti valori importanti io credo che molti aquilani l'hanno riscoperto questi valori e mi auguro che li scoprano sempre di più e un'ultima cosa che vorrei dire non so se c'entra col dolore che è un mistero grande che solo il Signore può spiegare la tragedia e il dolore e solo nella fede c'è una risposta perché altre risposte non ci sono io mi ricordo una pagina di Jürgen Molt ma il teorico della speranza che ho conosciuto lui racconta della sua esperienza della guerra della prigionia e quando finalmente è stato liberato lui che ha sfuggito alla morte dice io mi sento un sopravvissuto e parlando di sopravvissuto dice essere sopravvissuti è un dono ma è anche un compito io faccio sempre una prega del Signore Signore grazie che mi ha dato una seconda vita aiutami a viverla bene amando Te e i fratelli perché questa è la cosa più importante io quando giravo nelle tentopoli al momento della pace dicevo a tutti guardate amici miei fratelli miei tutto può scomparire solo l'amore a Dio fratelli non scomparire mai e quindi ecco diceva Moltmann siamo dei sopravvissuti è un dono avere la vita ma è anche un compito e noi con la nostra testimonianza di Aquilani dovremmo dare speranza che anche dopo questa tragedia si può ricominciare grazie davvero Monsignor Molinari grazie a Titti Postiglione grazie a voi che ci avete seguito da casa il nostro speciale sull'Aquila termina qui ma noi rimaniamo all'Aquila rimaniamo con il documentario di Massimiliano Cocchi 3 e 32 che ci racconta le ore immediatamente successive i giorni immediatamente successivi a quella scossa fatale forza l'Aquila ciao grazie a tutti